Hai mai sentito parlare del massimo consumo d'ossigeno oppure della soglia aerobica, soglia anaerobica? Sì? Sai tutto? Beh allora se qualcosa magari non la sai rimani con me perché te lo spiego fra due minuti. Anzi no te lo spiego subito per due minuti, facciamo così. Allora molte volte in qualche commento mi dicono ah ma fai le cose troppo semplici eccetera. La cosa bella è che cento anni fa Einstein ci aveva insegnato tra le tante cose una frase che me la sono fatta mia infatti è la frase guida del nostro progetto ovvero non sarai veramente padrone della tua materia finché non sarai in grado di spiegare quel concetto a tua nonna. Ho fatto due libri che trovate anche su Amazon HIT essenziale e acido lattico essenziale dove spiego due cose che sembrano difficili in un modo semplice con metafora eccetera. E questo è il mio obiettivo nella pagina sono più di centomila persone che seguono mi sembra normale fare così. Poi chiaramente chi mi segue continua con i corsi di formazione con l'academy con me nei congressi scientifici internazionali perché no magari delle ricerche se capiterà nel futuro le faremo insieme però mi sembra anche corretto dare delle informazioni uguali per tutti per far crescere le persone no per fare tanti saputelli in giro ce ne sono un sacco ecco meglio che cerchiamo di far crescere le persone. Allora molte volte si come dire ci sono delle parole che creano qualche problema anche nella terminologia eccetera. Io ho preso quelle comunemente più usate che probabilmente non sono così chiare. Allora uno è il consumo d'ossigeno guardiamo questa slide e intanto vi come sempre vi dico i suggerimenti solo mettete qualche like se siete adesso perché insomma facebook e anche youtube gradiscono l'interazione e poi visto che ci siete il telefonino da così a così anzi si è anche rotto il mio prossimo compleanno così lo sapete. Allora bene debito d'ossigeno vediamo un po questa slide cosa ci dice intanto come vedete c'è una persona che corre su un treadmill con una maschera quella maschera è un analizzatore di gas un metabolimetro analizza l'aria espirata ovviamente perché espirata e qui c'è il concetto. Allora chiaramente l'area inspirata è la stessa per tutti sia che abbiamo la maschera andiamo in montagna andiamo in pianura andiamo al livello del mare cosa cambia? La percentuale di ossigeno ma neanche così tanto sotto diciamo i mille metri non è che ci siano una grande differenza quindi l'area che inspiriamo ha sempre la stessa percentuale di ossigeno ma questo ossigeno che fine fa? Ovviamente come abbiamo visto in questa slide guardate giù in basso a sinistra io inspiro quindi l'ossigeno ovviamente arriverà nei polmoni dai polmoni passerà per il torrente ematico e quindi sarà un torrente ematico ossigenato arriverà nel mio cardio il mio cardio ovviamente farà defluire questo sangue ossigenato dove? Verso i muscoli che vediamo l'ultima immagine in basso a destra ma non è finita perché perché in quel modo in quel momento dobbiamo capire quanto è la massima capacità di poter utilizzare quell'ossigeno per ogni contrazione muscolare massimo consumo d'ossigeno allora qual è la persona più efficiente secondo te la persona più efficiente chiaramente quello che diciamo ma mangia quella molecola di ossigeno e la consuma nei muscoli allora perché quest'analizzatore questa maschera esiste perché fa proprio quella differenza va a controllare quanto poi ossigeno esce fuori in espirazione e secondo te chi è che più efficiente chi avrà un consiglio uno su un ossigeno espirato maggiore o minore magari scrivilo qui nei commenti maggiore o minore pensaci perché può essere utile e ne parliamo dopo all'altro l'altra terminologia invece abbastanza nota devo dire notissima sono le soglie la soglia aerobica e la soglia anaerobica anche qui ho messo due immagine che rendono un po l'idea metto sempre la corsa non perché mi piaccia particolarmente io facevo nuoto quindi proprio l'opposto del della corsa ma perché la corsa modo nell'altro la sappiamo fare tutti allora nella prima immagine a sinistra troviamo una persona che deve fare una lunga percorrenza e quindi chiaramente deve immaginare di andare per molto tempo per magari molte ore ad una velocità molto bassa quando succede questo e questo succede diciamo dalla maratona in poi sono anche i mezzi iron man gli iron man le gare di ultra distanza e così via poi ogni sport c'è la sua caratteristica bene in quel momento allora il l'obiettivo dell'atleta è quello di riuscire a risparmiare quanto più possibile il glicogeno muscolare che stiamo parlando di glucosio accumulato in macromolecole e il glucosio arriva dai carboidrati quindi abbiamo mangiato pane pasta riso eccetera diventerà glucosio nella cellula si accumula diventa glicogeno il problema che di glicogeno non abbiamo poco quindi chiaramente una persona deve fare una gara lunghissima dovrà cercare di stare in questa soglia aerobica sotto anche la soglia aerobica quando è che diventa soglia aerobica un attimo dopo il basale ovvero non è adesso che siamo seduti camminiamo c'è una vita ordinaria abbiamo un vo2 quello di prima basale un livello basale e chiaramente quando iniziamo poi a correre man mano questo ci sarà un momento dove siamo uno mette la freccia il nostro metabolismo ammette la freccia e inizia andare più veloce quel momento è il momento che teoricamente intorno ai 2 mili moli non è proprio quello il valore però si studia intorno ai 2 mili moli e quel momento si chiama soglia aerobica diciamo che la maratona bisognerebbe farla in quella soglia per i meno allenati per le nati hanno sicuramente l'intensità molto più alte 2 mili moli poi c'è la soglia anaerobica le le cose sono più complesse perché ovviamente nella terminologia ci sono molte considerazioni da fare ovvero come si misura è lattato oppure respiratori oppure con le frequenze eccetera diciamo per essere più generici possibili quel momento dove noi produciamo acido lattico però la quantità che produciamo la stessa che smaltiamo e quindi noi possiamo correre ad un'intensità abbastanza alta prima che l'acido lattico blocchi la nostra contrazione muscolare eccetera e quindi questa è la soglia anaerobica indipendentemente dai numeri dalle cose dalle frequenze eccetera perché le frequenze cardiache io non le conosco le vostre ma sinceramente neanche tu puoi conoscere la tua se non fai un test specifico quindi dire che correre in soglia vuol dire andare a 160 battiti è sbagliato a prescindere proprio perché non è possibile che un numero così a casaccio come dire 4 millimoli di lattato e soglia anaerobica noi un numero indicativo però non vuol dire nulla per te per me eccetera bisognerebbe fare un test quindi meglio non usare i numeri a quel punto andare più a sensazione che forse più utile non è molto allenante mai più quindi ritorniamo un attimo alla slide di prima per chiudere quel concetto il massimo consumo di ossigeno e quella capacità per il nostro organismo di utilizzare quanto più possibile ossigeno dentro il muscolo quindi bisogna avere allenato sia gli adattamenti centrali che quelli periferici perché se i mitocondi della fibra muscolare non sono allenati noi facciamo veicolare quella molecola di ossigeno e bus ai muscoli ma se ne va via perché dentro i muscoli nessuno la usa e quindi chiaramente la maschera poi misurerà una quantità di ossigeno elevata vuol dire che noi non abbiamo usato e qui si svela questo piccolo arcano tutte queste cose ho cercato di rimettere un po appunto questo anche per rispondere a chi dice che diciamo le cose troppo facili benissimo se volete fare un passo in più ci sono tanti modi per fare passi in più quindi abbiamo dei percorsi di formazione che sono un pochino più avanzati e vi attacchiamo le nostre grinfie qua perché finché non siete bravi voi dei programmi non uscite nel senso che noi facciamo delle cose un po diverse sono dei gruppi privati delle live delle domande risposte con me e finché non avete veramente capito la materia per allenarvi voi o se siete professionisti chiaramente per migliorare sulla base di evidenze scientifiche bene ma ti invito a questo punto segna questo dominio che trovi qua migliaccio punto it che è il mio dominio slash corso trattino demo comunque lo metterò anche nel titolo perché perché ci sono dei corsi demo che ho fatto a disposizione gratuiti e quindi perché non farli allora oggi abbiamo parlato di consumo d'ossigeno spero che sia stata abbastanza chiara questa definizione e poi di soglia aerobica e soglia anaerobica ora ho fatto l'esempio della corsa ma che tu faccia nuoto o faccia attività in palestra o faccia qualunque tipo di sport che tu hai piacere dalle arti marziere eccetera le regole sono le stesse quindi comunque le regole del consumo d'ossigeno le regole delle soglie le regole dell'allenamento sono le stesse all'interno dei tuoi muscoli i mitocondri che siano dentro l'acqua o siano su un tatami sinceramente a loro non gli importa devono essere allenati nel modo corretto ci sentiamo domani alle 7 un quarto con una nuova diretta ciao a tutti